Grazie all'università per avermi aiutato a questo convegno, ovviamente noi speriamo che noi siamo congi a mettere la necessità di tutte le nostre, la batteria, i 35.000 punti che diceva la batteria, ma secondo noi, e quindi su queste tecnologie, noi oggi lavoriamo con queste tecnologie, portiamo avanti anche le nostre domenie, gli amici di cittadini, vorrei anche ricordare che la batteria è un punto di riferimento dallo Stato, la batteria non è un punto di riferimento dallo Stato, noi lo diamo semplicemente e ci rinnoviamo ogni volta, ogni volta, ogni volta rinnoviamo il contratto con lo Stato, quindi siamo veramente un punto di riferimento dallo Stato verso le cittadini e vogliamo essere così, vogliamo rimanere così, siamo passati con la batteria, quando è iniziato il gioco dell'ordine, la batteria, quando lo Stato ricassava a pochi di nomi, i ricchiadevano, portati da l'occheria sono negli anni, c'è un incasso, e non è ancora che ci sono, quindi voglio dire che siamo in un nuovo punto di riferimento sia per la cittadino, sia per la cittadino, ma per l'occheria di riferimento di risolvere lo Stato, tutto quello che incassa la batteria è diversa profondamente allo Stato, abbiamo un sistema che, anche se non è che il sistema pensa a riferimento di risolvere lo Stato, quindi non ha mai visto niente di quello che ha avuto l'occheria di risolvere lo Stato, ovviamente ci sentiamo in un punto di riferimento, facciamo i servizi di posta, oggi non è mai avuto l'accordo con le poste, gli cedevano il fatto di lavoro, gli cittadini, siamo un punto di riferimento per la cittadino, per la cittadino, per la popolazione in generale, vogliamo essere così, e vorremmo anche essere il frutto di riferimento per quello che riguarda i servizi postati, siamo già non ci riferimenti, stiamo facendo tutti i voti di postati, stiamo mettendo la situazione e le tutte le nostre strutture per arrivare a quel punto, stiamo facendo formazioni, per passare a stracare, non fa condivine alle anni, si devono formare, per vede, l'unico riporto che permetterà la formazione è la formazione di un po' e ci si riferiamo un po'. Quindi, il problema è essenziale, è proprio quello che si riferisce, quindi questa è un problema, con più durabilità, è solo lo Stato, e quindi io penso che il dubbio sarà la fine del momento, quindi è già praticamente quasi un tempo, è effetto di nuovo, lì lo veniamo con questo momento, quindi di grattacali, il sizuale è anche, che in questo momento si capa, è vicino, e penso che questo non è un problema di lui, che lo Grazie. Grazie.